Ciao amici, benvenuti a un nuovo video del canale del mondo Pinipon. Oggi c'è un capitolo speciale, ci è costato un po' a prepararlo, perciò se vi piace mettete un mi piace e saremo molto felici. Oggi abbiamo... Arriviamo tardi, arriviamo tardi, arriviamo tardi! Arriviamo tardi per colpa tua, non abbiamo aperto nemmeno il castello. Andiamo, andiamo ad aprire il castello che arriviamo tardi. Niente, è iniziato un altro grande problema, il mio lavoro da narratrice è molto complicato, vediamo se adesso ve lo posso raccontare. Oggi nel nostro canale c'è un matrimonio e le incaricate di... Dove sono le tartine? Accanto alle bevande, se sono un cane ti mordono, ma le bevande non sono ancora arrivate. Ah, per quello non le vedi. Credo che la cosa migliore è che lo vediate voi. Arriviamo tardi, arriviamo tardi! Scusa, dragonessa, ti giuro che ci calmiamo adesso. Non ci bruciare, sarà meglio per voi, state gridando tutta la mattina, scusa, vi sorveglierò. Hai ragione, siamo le regine magiche dei pinipon, dobbiamo comportarci bene. Sì, se ci hanno incaricato questo matrimonio è perché hanno fiducia in noi, ci dobbiamo dimostrare che non si sbagliavano. Ha ragione, regina sei la migliore. No, tu sei la migliore. No, tu, tu, ragazzi! Scusaci! Beh, che ne sappiamo della sposa? Arriverà nella carrozza delle regine magiche vestite e preparata. E lo sposo? Ah, non ne ho idea, sai che succede? Che è un pinipon normale, non parlo molto con quel tipo di persone. Regina! Scusa, scusa, sembra che bussano alla porta. Oh no, speriamo non sia il marito. Che non sia il marito. Ciao, che bel posto! Due piani, è uno specchio bellissimo e molte decorazioni. È il castello più bello. Ma, ma, ma... Che succede? Non hai il vestito! Sono vestito ma vestito normale. Chiaro, chiaro. Ma quello non è appropriato. Andiamo allo specchio magico dei pinipon. Togli e metti. Andiamo. Non gridare che sennò viene la dragonessa. Allo specchio! Come volete. Come funziona questo? È magica. Magia, togli e metti. Mettiti davanti allo specchio e chiedi di renderti bello. Siete i migliori. Sapevo di festeggiare quel mio matrimonio. Andiamo. Ok, voglio essere bello. Bene. Bene, sono bello, ma un po' antico. E sembri... Specchio, più moderno. Bene, sono più moderno. Le scarpe sono bellissime. Già, ma... Qualcosa di più maschile? Grazie, non lo volevo dire io. Specchio, più maschile. Bene, bene, bene. Mi piace. Che? Sì, a mia moglie piacerà. Sicuro? Chiaro. Lei è una regina magica dei pinipon. Io sono un pinipon normale. Se c'è qualcosa che ci unisce è che ci piace cambiare di look e divertirci. Sapete? Pinipon togli e metti. Bene, se sei convinto. La sposa arriva. Arriva la sposa. Che dici? Sì, ho visto la carrozza da lontano. Ah! Non gridare che ancora non ho detto tutto. Gli invitati stanno arrivando. Ah! Ma non è pronto. Ma vediamo, non siete regine magiche? Fate incantesimi. Certo, che sceme. Com'è possibile che ci siamo dimenticate? Lo stress. Vediamo, me ne occupo io. Sposo, vai a ricevere gli invitati e la tua sposa mentre noi facciamo gli incantesimi. Quando siamo pronte usciamo a celebrare il matrimonio. Vai! Di corsa! Andiamo, andiamo! Regina magica, vuoi questo pinipon come tuo sposo? Sì, sì, sì. E a proposito mi piace il tuo vestito. Pinipon, vuoi questa regina magica come moglie? Per sempre. Per il potere conferito alle regine magiche meravigliose, vi dichiariamo sposi pinipon! Meno male c'ero io a tranquillizzarvi. Beh, sì, dragonessa, è per sempre, per sempre. Temo quello.